... So che sembra sciocco, dato ciò che è successo, ho fatto alcune ricerche e credo che potremmo provare a mettere in piedi un impianto di raffinazione artigianale. L'unico ostacolo è che servirà molto lavoro e non posso farlo tutto da solo. Dovremo costruire una cisterna per petrolio da mille litri di capacità. Possiamo usare lo scafo dell'imbarcazione affondata nel fiume. Ci sono volontari per recuperarlo? Dobbiamo allestire un sistema di raccolta del greggio. Chi vuole far parte della catena di trasporto? Sistemati questi due aspetti, dovremmo essere in grado di produrre diesel, cherosene e benzina sufficienti per far volare gli aerei e forse anche per trarne un profitto. Questo dovrebbe essere l'albero genealogico di Abby. La sua famiglia è vissuta in questo villaggio per centinaia di anni e sembra che in qualche modo sia legata alla maggior parte degli abitanti del villaggio. La giungla prende quel che vuole, ma è difficile farle svelare i suoi segreti, anche se forse ne ho scovato uno. Forse. Davvero? Il villaggio è stratificato. Togli uno strato e ne scopri un altro. E così via. Sembra avere una storia complessa. A volte mi chiedo se non sia stato qui in un modo o nell'altro dall'inizio dei tempi. Sai, sei diversa dagli altri. Quali altri? Tutti quanti. Uomini in circa di petrolio e oro. Arraffavano a più non posso. Continuate a razionare la distribuzione dei viveri. Quando arriveremo in zona, sarà meglio che la vostra gente sia più preoccupata di cosa mangiare o per la febbre dei loro figli rispetto a ciò che avviene fuori dal villaggio. Come promesso, una volta che l'ispezione dell'area sarà conclusa, vi invieremo razioni mensili doppie rispetto a quelle che ricevete al momento dalla CARE per 24 mesi. A patto ovviamente che rispettiate la vostra parte dell'accordo. Cordialmente, Esteia Dias, direttrice dei programmi di sviluppo sociale, Ordine della Trinità. Molto pi sol. Come metti oggi? Questa cosa stai lawila tra la qualsiasi i giochi di vino vasto di un Moment, e ci sono stata fatta qui, anche la Gall Sara. Si, ho avuto gli goofy livelli che rappro Yeah, invece non lo rirà delle funzioni molto ozzo. Questa è la storia di alcune caverne della zona che, secondo le voci, sarebbero infestate. Tremendi rumori spettrali sembrano provenire dalle viscere della terra. Nessuno che sia entrato in queste caverne ha mai fatto ritorno. Suoni misteriosi, a metà tra il rombo del tuono e l'ululato dei cani, alleggiano nell'aria, conditi da un'ispiegabile luce che rifulgia all'interno. Signorina Ortis, la ringraziamo per la sua recente indagine. Abbiamo prodotto un indice della qualità dell'acqua, IQA, per i siti fluviali che circondano il villaggio di Kuak-Yaku. Sulla base dei campioni da lei forniti, i risultati indicano che tali località fluviali dovrebbero essere classificate come aree di scarsa qualità idrica. Il risultato dello studio ha evidenziato la diffusione di problematiche su larga scala, quali interrimento, inquinamento da agenti chimici e contaminazione da metalli pesanti. La torbidezza e la concentrazione di solidi totali superano i limiti ambientali. L'acqua con un alto grado di torbidezza non può essere usata come acqua potabile, mentre l'alto livello di solidi totali implica che non si possa usare nemmeno come acqua irrigua, in quanto potenzialmente dannosa per gli impianti. Si presume che la pesca di sussistenza, precedentemente praticata in loco, non sia più possibile nelle aree in oggetto, con conseguente impatto negativo sulle condizioni di vita della popolazione. Allo stesso modo, il pH e il COD mostrano un elevato tasso di alcalinità. Questi parametri dimostrano la presenza di inquinamento chimico nel fiume. Un pH alcalino, acqua dura, si traduce in effetti corrosivi in grado di danneggiare tubazioni e vestiti. Alti livelli di fluoruro comportano il rischio di patologie come fluorosi dentale o dossea. La presenza di batteri patogeni, come la salmonella, rappresenta anch'essa una minaccia immediata per la salute della comunità locale. Tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Tradizionalmente fatte di tessuto e imbottite con giunchi e chicchi di grano, le bambole funerarie sono spesso raffigurate con un oggetto in mano, come uno strumento musicale, una palla o del filo. In questo caso la bambola regge un neonato. Forse a significare che la defunta era una madre. Una volta questo villaggio era sotto l'ale e l'occhio vigile del condor, ma abbiamo lasciato che l'aquila lo scacciasse. Non sono sicura di capire. Neanch'io. Abbiamo perduto noi stessi inseguendo le nostre ambizioni, convinti che qualche spicciolo potesse renderci felici. Ma l'aquila ha portato via anche quelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcuno ha sbarrato la strada. 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 pare che il ponte sia inagibile. Sperta! Oddio, no! Questa stanza si è conservata meglio del resto della grotta. Qualcuno ha sbarrato la strada. Qualcuno ha sbarrato la strada. Qualcuno ha sbarrato la strada. Oh no. 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 Oh no.